La tranquillità può arrivare dai numeri ufficiali. In un post su Facebook il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti spiega che una persona può morire per coronavirus, ossia il virus ha contribuito direttamente alla sua morte o con il coronavirus, cioè è presente ma il suo ruolo non è primario nella morte. Degli ultimi decessi italiani, conclude Bassetti, due sembrano morti più con il virus che per il virus, cioè hanno perso la vita per altre patologie di cui già soffrivano e a cui il Covid-19 si è aggiunto, una differenza sottile ma sostanziale, dice Bassetti. I medici Liguri affermano di essere pronti ad affrontare il problema. La risposta di Regione Liguria, spiegano dalla ASL4, è stata a cappillare per provare ad arginare il coronavirus. È già una situazione di allerta, certo non deve essere particolarmente allarmistica, sono delle misure di prevenzione che si aggiungono a già i comportamenti che hanno già dato a livello dell'OMS, che sono sui comportamenti che sono quello che fa la differenza proprio. Il Covid-19, spiega ancora lo russo, è un virus influenzale che si diffonde in maniera epidemica, rispetto però alla percentuale di mortalità non ha le caratteristiche gravi di altre patologie. Come per esempio la SARS o la MERS, che avevano una molto più elevata letalità. Ad oggi diciamo la mortalità correlata è bassa, è sul 2%. L'ASL4 rassicura poi, siamo presenti, c'è sinergia tra le persone che lavorano sul caso e la macchina organizzativa funziona bene. È un percorso nuovo, è un percorso che però insomma non ci trova completamente allo sbaraglio perché abbiamo già avuto diverse problematiche relative al contenimento di quelli che possono essere per esempio dei microorganismi multiresistenti.